Negli ultimi due video ci siamo occupati prima del passaggio dall'eroe borghese, l'eroe del romanzo del Settecento all'Inetto e poi delle due facce dell'Inetto. Oggi andremo a vedere un autore che queste due facce dell'Inetto nella sua opera sembra, almeno sembra, sintetizzarle. Parliamo di Federico Tozzi, l'avete letto dal titolo, e sembra sintetizzarle queste due facce? Le sintetizza davvero? Non lo so, lo andremo a vedere dopo la sigla. Ma tu intanto metti di comodo, buttami un bel like, iscriviti al canale e ci vediamo dall'altra parte. Ti amo, ti amo. Federico, non Umberto. Federico Tozzi, senese, classe 1983, morto di influenza spagnola nel 1920. No, non è una pubblicità a progresso contro il Covid, davvero è morto di spagnola. Ha 37 anni. Ti raga, lo so che sembra lo sketch della piccola fiammiferaia nei villaggi, ma peggio deve ancora venire, abbiate fede. Basta cazzeggiare, facciamo le persone serie. Come abbiamo detto nell'intro, quest'autore sembra sintetizzare le due declinazioni dell'Inetto di cui abbiamo parlato nell'ultimo video. I suoi romanzi principali sono Con gli occhi chiusi, Tre Croci, che è il suo capolavoro, e Il Podere. Il romanzo Con gli occhi chiusi è la storia di Pietro. Un ragazzo che era inutile, cioè non interessato, agli interessi e stava bene sul letto con gli occhi chiusi. Colpito dalla prematura scomparsa della madre e dal terribile rapporto che ha col padre, cerca di colmare il suo voto affettivo con l'amore per Ghisola. Ghisola non lo ricambia, anzi, da buona calcolatrice cerca di sfruttare la situazione. L'epilogo del romanzo vedete dove incontrarsi in una casa di tolleranza dove Ghisola ha trovato impiego e Pietro lì smetterà di amarla. Per dirla con il De Benedetti, con gli occhi chiusi, è la storia di un amore che Pietro, con tutti i mezzi, porta al fallimento per punire, con la vista del proprio scacco, chi gli ha cagionato quell'impotenza psicologica di amare. Attenzione, Actung, detto così, sembra che si stia parlando di autosabotaggio e di sindomine dell'impostore. Non è questo, o almeno non solo, e non è nemmeno soprattutto una questione di destino, né in senso religioso, né di destino inteso come la natura deterministica che dicevano i naturalisti dell'Ottocento. È un destino autoimposto, un atto potente di annichilimento dell'amore romantico, ma un atto però in sé potente. Quella vertigine violenta che l'aveva battuto ai piedi di Chisola non c'è più. Ecco, la potenza, l'atto potente, sta nel distruggere quella vertigine violenta, che poi, se vogliamo dirla filosoficamente, è distruzione dell'essere. E questo destino autoimposto, dove destino va tra mille virgolette e autoimposto va tra diecimila virgolette, lo vediamo anche nel romanzo Il Potere. Remigo, alla morte del padre, ne riceve in eredità il potere, però questo ragazzo non sa comandare. Non è duro con i suoi subalterni, con i contadini e con gli allevatori che lavorano al potere, e quindi per questo dovrà non solo ad essere allontanato, ma a essere disprezzato, disprezzato proprio perché non mena fondamentalmente, fino all'epilogo in cui viene proprio ucciso da uno di questi subalterni. E anche qui la tentazione di analizzarlo semplicisticamente come la storia del bravo ragazzo che non sa comandare e che in generale viene disprezzato proprio perché è un bravo ragazzo, la tentazione è forte, ma non è così. L'altra tentazione forte è poi quella di vedere il romanzo deterministico, insomma la bestia umana, dove certe persone, i contadini, nascono per essere presi ammazzate e come non vengono presi ammazzate, cioè come si va contro la loro natura, questi si ribellano, quindi la loro natura è proprio quella di essere comandati a bacchetta come una bestia da Soma. Anche questa è una tentazione forte e anche qui dobbiamo dire che non è solo questa la pista di interpretazione. Cioè, c'è certamente la natura cattiva, c'è questo psicoanalitico rifiuto dei paradigmi del padre, non l'edipo, ma c'è anche una autodeterminazione di cui l'inetto stesso è artefice, come abbiamo visto nel romanzo precedente. È un cortocircuito, e attenzione è un cortocircuito bello pesante. Cioè, il destino o è scritto o se non è scritto non è destino. Qui ci troviamo davanti a uno simonico destino non scritto, che però se lo scrive da solo il protagonista, e allora diventa destino. Un destino tragico per giunta è scritto inconsapevolmente per giunta, inconsapevolmente, involontariamente. C'è qui la differenza e la sintesi tra le due facce dell'inetto eroe e dell'inetto coscienza, se tutto qua è involontariamente, è volontario, cioè è un atto di un eroe che crea il mondo, o è un mondo subito dall'eroe senza che l'eroe veda prospettive, non l'eroe, senza che l'inetto veda prospettive di uscita. Quale delle due? E in Tre Croci, che è il capolavoro di Federico Tozzi, questo destino auto-inflitto, però non auto-inflitto volontariamente, diventa un qualcosa di corale. Tre fratelli vivono tutti e tre fuori dal mondo, e ce ne rendiamo conto dai lavori che fanno il regatore dei libri antichi, rappresentante dei libri antichi, bottegaio dei libri antichi. Giulio, Niccolò ed Enrico sono benestanti grazie all'eredità del padre, solo che i soldi pian piano finiscono. Per riprendersi da questa difficoltà economica, decidono di chiedere un prestito, un prestito su cui la firma di garanzia viene messa dal cavaliere Orazio Nicchioli, che si mostra molto disponibile, un gentiluomo, disponibilità che però viene ricambiata dai tre fratelli con una truffa. I tre fratelli, diciamo, per avere un fido più grande, per avere firma di garanzia su una cifra ancora più grande, su una cifra sovrastimata, della quale il cavaliere non era a conoscenza, falsificano la sua firma. Giulio mette una firma falsa al nome del cavaliere, però questa truffa viene scoperta. Giulio, quello che aveva messo la finta firma, si suicida, uno per i sensi di colpa morale, ma anche e soprattutto perché aveva paura di andare in galera fondamentalmente. E anche qui vediamo proprio la dualità per paura della galera, quindi un qualcosa di concretissimo, di vero, di invisibile dal deox ex machina ad andare in galera, e invece un qualcosa di morale interno che riconosce la verità. È un gioco molto vertiginoso questo. E soprattutto per Giulio, accanto al rimorso morale, troviamo anche la vergogna di essere preso per pezzente, quindi tante tante variabili che si incrociano e che non vediamo sempre incrociarsi negli netti di Svevo, quindi in Zeno Cosini, ma anche nel protagonista di una vita. Niccolò prova a rifarsi una vita ma muore di malattia e Enrico si dà al vagabondaggio e muore in un ricovero. Questo romanzo è diverso, molto diverso, chiaramente, sia dal podere che da con gli occhi chiusi. Innanzitutto per la sua coralità, Borghese, non Alessandro Borghese, parla di un superamento della prospettiva autobiografica a favore dell'oggettività e dell'impersonalità, la coralità di cui dicevamo prima, solo che questa coralità per Borghese vuol dire il ritorno ai canoni della narrativa naturalistica e verista, e la famiglia Gambi in Malavoglia un po' ce li ricorda. Al contrario, però, per De Benedetti nulla di più lontano dal romanzo positivista e deterministico del 1800. Leggendo De Benedetti, Il possesso, la feticizzazione capitalistica della roba, rovesce dispositivi e le motivazioni del romanzo positivistico, deterministico e borghese. Cioè, se nel romanzo verista era il possesso o la mancanza di possesso a determinare tutte le azioni, qui dobbiamo chiederci se l'autodistruzione, lo scrivere questo destino autodistruttivo e lo scriverlo involontariamente, tutta sta roba qua, di questi tre fratelli, è un'azione che prescinde totalmente dal possesso o che dipende dal possesso ma è una spinta contraria. Il non avere, il voler non avere, il voler autodistruggersi se si ha e il voler avere se non si ha. Dobbiamo chiederci questo. L'impressione è quella che i tre fratelli fossero perfettamente consapevoli, ma tuttavia non è detto che lo vogliano, però perfettamente consapevoli che, falsificando la firma del cavaliere, stessero siglando la loro condanna a morte. E questa cosa non c'è in nessun romanzo naturalista e non può esserci l'istinto della conservazione. Quindi, scrivendo, volontariamente o involontariamente, consapevolmente, però, l'impressione è quella che c'è una consapevolezza, ma non è detto che la consapevolezza non comporta la volontarietà di scrivere il proprio destino. By the way, se la storia di questi tre romanzi fosse solo una storia di autosabotaggio, di bontà non capita, di incapacità di reggersi in piedi da soli, e se fosse un tetrodestino che i personaggi si infliggono volontariamente da soli, allora staremo parlando di inetti eroi, eroi nel loro antieroismo. Ma non sembra questo il caso di questi tre romanzi, cioè c'è forse un auto-infliggersi, ma non un auto-infliggersi volontario. Tuttavia, abbiamo detto nello scorso video che un indice dell'inetto eroe, del suo antieroismo, lo ripeterò sempre, è quello dell'esistenza di un mondo, un mondo oggettivo, un mondo vero, concepibile all'infuori dell'io narrante. L'abbiamo detto nello scorso video. E nei romanzi di Tozzi, questo mondo oggettivo all'infuori dell'io narrante, della coscienza dell'io narrante, appare. Appare al punto tale che Borghese ci ha visto un ritorno all'impersonalità e l'oggettività del naturalismo. Traspare questo mondo oggettivo, traspare se non altro nella città di Siena. Un altro critico scrive che Tre Croci è un romanzo rigorosamente cittadino. Siena è rappresentata con una tecnica tra cubista ed espressionista, ma la descrizione di valore simbolico si sofferma spesso sul degrado di mura e angoli di strada. Insomma, raga, il mondo oggettivo all'infuori del mio narrante in Tozzi c'è. E io, in etto dei romanzi di Tozzi, in questo mondo esterno non è che ci sono tanti eroe, o ci sono da spettatori o posto concepito. Io semplicemente non ci sono proprio. Però, insomma, da un lato non ci sono, dall'altro riesco a manipolarlo talmente tanto da creare un destino, volontariamente o non volontariamente, di creare un destino che mi auto-infliggo negativamente. Quindi, come abbiamo detto all'inizio, i romanzi di Tozzi sembrano sintetizzare le due facce dell'inetto, le due declinazioni dell'inetto. That's it! Abbiamo finito questa lunga serie su Ginetti, non ce la faccio più. Fammi sapere nei commenti se vuoi che mi occupi di qualche altro autore. Sicuramente mi occuperò di qualche altro argomento, poi vedrò quando e se ci tornerò a Ginetti. Poi vedrò se non è vero. Se vuoi fammelo sapere nei commenti, magari ci torno. Se questo video ti è piaciuto, condividilo. E noi soprattutto ci vediamo prestissimo. Besos! Ciao!